Buongiorno, buongiorno da Stefania Bonomi e benvenuti al nostro primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Oggi è una giornata particolare, oggi è giovedì 10 agosto e si festeggia un santo molto molto importante ed è San Lorenzo. Perché questo santo è così importante? Perché è stato un grande martire, pensate che è morto. Martire per Cristo è il patrono di diaconi, cuochi e pompieri. Nel periodo della sua festa, che appunto si celebra il 10 agosto, il cielo di notte si illumina di stelle cadenti che per la tradizione popolari sono le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo martirio. Il martirio di San Lorenzo è stato un martirio molto molto pesante e pensate che la sua morte è stata su una graticola rovente, è stato arrostito lentamente e San Lorenzo morì il 10 di agosto del 258. E vediamo le previsioni del tempo. Sono ancora mattine piuttosto fresche, anche se ieri sera il clima era più umite. Il tempo comunque resta stabile con prevalenza di sole ovunque e pochissime nubi di passaggio. Le temperature sono stazionarie dal minimi di 18 ai massimi di 29-30. Quindi sono un pochino in rialzo, avremo sole venerdì, sabato domenica, lunedì martedì. Sole pieno, le minime sono intorno ai 20 gradi, le massime arrivano fino a 31 nella giornata di domenica. E come tutte le mattine andiamo a collegarci con Edoardo Rubini che ci sta aspettando dallo stabilimento da Emilia di Porto Novo. Edoardo buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Anche questa mattina una meraviglia come potete vedere. Ti abbiamo lasciato... Porto Novo è ancora un po' solitario, diciamo così, guardi che bello. Bellissimo. Ti abbiamo lasciato Edoardo ieri che eri in acqua, oggi invece sei dove? Al ristorante? Oggi sì, sono seduto comunemente al mio ristorante, ho fatto colazione con mia figlia, con un po' di tranquillità, un attimo di pace anche per me, no? Poi ricominciamo la giornata. Edoardo, come sta andando questa stagione turistica? Bello. Tanta affluenza, tantissima gente, tantissime persone da fuori, ristoranti pieni, ma non solo il mio, ma vedo che nella riviera del Conaro c'è una grandissima affluenza di turisti, di persone che vengono da fuori. Questa è una bella notizia, visto che Assoturismo aveva dato dei dati abbastanza, insomma, non proprio soddisfacenti ultimamente, ma andiamo nello specifico. Il turista, l'attuale turista, quello che frequenta il tuo stabilimento balneare, che tipo di richiesta ha e che cosa è cambiato tra, diciamo, il turismo di dieci anni fa e il turismo attuale? Allora, io penso che adesso con tutte queste applicazioni che ci sono, il turista esige una certa organizzazione, no? Se prima magari venivano un po' così, andiamo a fare un weekend e così, venivano un po' la sbaraglio. Invece adesso hanno capito anche di potersi organizzare, di organizzare una gita in barca, di organizzare magari un'uscita con le canoe o surf, oppure anche semplicemente mangiare o lettini o ombrelloni, adesso è prenotabile anche con le applicazioni. Perciò io vedo il turista più organizzato, più preciso su quello che è una... Ecco, diciamo che organizza una giornata molto meglio di dieci anni fa, perché magari le applicazioni e le opportunità sono talmente tante che riescono ad essere ancora più precisi su quello che è la giornata organizzata al mare, diciamo. Certo, perché adesso attraverso le applicazioni possono già vedere le fotografie della spiaggia, hanno una scelta immediata e arrivano molte prenotazioni tramite queste applicazioni? Sì, sì, ma notevoli. Poi per noi è leggermente più difficile, perché comunque tra telefono, mail, applicazioni così, dobbiamo stare attenti un pochino a tutte queste variabili che ci sono sul metodo di prenotazione. Guardi, anche noi qua abbiamo messo una persona in più per rispondere semplicemente al telefono, perché c'è veramente una richiesta incredibile di prenotazioni per quanto riguarda... Ecco, anche semplicemente il ristorante è veramente notevole, insomma. Bene, questa è una bellissima notizia. E un'altra cosa, cosa chiede? Cioè, qual è la richiesta più comune del turista? Cioè, quella che ultimamente è una richiesta che proprio diventa standard? Ma guarda, la tranquillità di arrivare nel posto dove soggiornano, dove, diciamo così, dove vengono anche in spiaggia così, sicuramente la comodità di arrivare anche vicino con la macchina e di passare un po' di tranquillità, no? Il resto vengono giù e si lasciano coccolare da questa meravigliosa baia. Ma qui, guarda, basta poco. Qui da noi basta poco, basta facciarsi un attimino sopra dove l'imboccatura della strada che scende e capiscono di cosa stanno per assaggiare a Porto Novo. Certo. Perciò, ecco, anche la prima mattina hanno già tutto quello che gli serve, secondo me. Infatti, bisognerebbe venire in spiaggia, andare in spiaggia di mattina molto presto perché è spettacolare. Ma sì. Anche perché poi sono nel mare piatto, poi magari dopo due o tre ore comincia ad alzarsi un po' il vento, quindi è proprio bello. Ma certo, ma certo. Va bene? Infatti, guarda, stamattina sono uscite decine e decine di canoe all'alba per vedere l'alba di Porto Novo, è meraviglioso. Bellissimo, immagino. Va bene, Edoardo, allora noi ci ritroviamo domani mattina per parlare ancora di altre cose. Va bene, un attimo che ti faccio fare un saluto da una persona particolare, va bene? Sì, certo, aspettiamo il saluto. Perché questo signore che è mio padre tutte le mattine fa il saluto alla Baia, va bene? Dov'è? Vediamolo. Vediamo, magari sentiamo. Sentiamolo. Bisognerebbe mettere con queste immagini della bella musica. Ecco il papà. Ah, sta facendo proprio... Beh, questo è un saluto che mio padre fa tutti i giorni nella Baia, questi miei padri. Sono senza parole, vorrei essere lì. E con questo saluto vi abbracciamo da Porto Novo. Assolutamente bellissimo. Grazie di queste bellissime ultime immagini che ci avete regalato. Ci vediamo domani, Edoardo. Ciao. Ciao, grazie a voi. Buona giornata da Porto Novo. Grazie. Edoardo ci regala sempre delle sorprese, tutti i giorni che ci colleghiamo con lui. Ma a questo punto invece torniamo alla nostra rassegna stampa questa mattina. La apriamo dal... Partiamo dal Corriere Adriatico. Corriere Adriatico. Prima pagina, pesare, chirurghi giocano a carte. Pergola, la frase del consigliere regionale Biancani del PD scatena la polemica e diventa un caso. Il primario, gammarota, un'offese inaccettabile, lo querelo. In sette mesi, oltre mille interventi. Andremo poi a capire meglio di che cosa si tratta. Poi, sempre fotonotizia in prima pagina, racconto shock del blitz in villa, rapinati con una ferocia assurda. Ed ancora, brevi di cronaca, Pesaro si offre a un uomo che la respinge, arrestata per furto. Ancora Pesaro, signora, l'ha sporcata un piccione, le sfila la catenina dal collo. E ancora Pesaro, vecchio palace, il commerciale, ora va ai privati. Falò in spiaggia a Focara, c'è l'incubo degli incendi, l'allarme di bratti della Nemo Lifeguard. Segnalazioni continue e rifiuti abbandonati. Ed ecco l'articolo di prima pagina. L'altro fronte, il primario, gammarota, confuso come cerisciò, gli offesi inaccettabili, querelo. Che cosa è successo? È accaduto con l'intervento del consigliere PD, Andrea Biancani, che ha fatto questa dichiarazione. Col mantenimento dell'ospedale di primo livello a Pesaro e Fano, ad andare in affanno, è l'entroterra. Andate a chiedere cosa sta succedendo a Urbino, con sempre più medici che vengono portati a Pergola a guardare le cicatrici, dove i chirurghi giocano a 3-7. Un discorso che ha fatto letteralmente saltare sulla sedia al primario di chirurgia del nosocomio Pergolese, Santi Carlo e Donnino, non conosce la realtà, ha fermato e continuiamo con le favole con cui hanno perso le elezioni. Sarebbe invece giusto che sapessero qual è la reale situazione. E questo è il caso. Restiamo a Pesaro, Falò, in spiaggia, a Focara, situazioni pericolose, ad alto rischio di incendio. Segnalazioni continue e rifiuti abbandonati. L'allarme di Bratti, Nemo Lifeguard. Anche l'altra sera c'è stato un intervento dei vigili del fuoco. Restiamo nella città di Pesaro. Signora, un piccino nella sporcata finge di pulirle le sfide alla catenina. Questi sono i soliti problemi che danneggiano gli anziani. In questo caso la signora si era sporcata con degli escrementi di piccione. La signora, a 90 anni, era arrivata al cimitero centrale in bicicletta, perfettamente autonoma, ed è stata raggirata dalla fantasia malata di un paio di persone. L'uomo, arrivato dal nulla, ha tirato fuori una serie di fazzoletti di carta, molto gentile, fingendo di pulire gli abiti della donna da questi escrementi. Nell'assoluto imbarazzo della signora le ha messo le mani addosso e con l'abilità di un vero truffatore le ha sfilato la catenina che portava il collo con una serie di medagliette e altri piccoli oggetti. Quindi bisogna sempre tutelare questi anziani, perché sono quelli che sono più a disposizione di queste cose, più a rischio. Ed andiamo invece a Fano. Passiamo a Fano. Fano deve subire un'ingiustizia, meno fondi di città più piccole. Il sindaco rilancia la querella dei bandi che privilegiano i capoluoghi provinciali. Allora, quando nel 1860 la scelta di suddividere il territorio delle Marche in provincia privilegiò Pesaro come capoluogo su Fano. Fano però non fu da meno, incrementando con l'andare del tempo la sua popolazione e raggiunse ben presto la terza posizione a livello regionale. Questo però non l'ha fatta salire nella scala, secondo la quale lo Stato eroga i suoi contributi, dato che il governo continua a privilegiare le città capoluogo di provincia. Più volte il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha denunciato questa situazione che discrimina la popolazione per un mero ruolo amministrativo, senza tenere conto delle sue reali necessità e bisogni. Ma la goccia che rischia di far traboccare il vaso è la nuova penalizzazione subita da Fano dalla concessione di risorse iti per il prossimo settennio. Anche in questo caso i contributi sono stati assegnati solo alle città di capoluogo. Ed ancora Fano, svolta per la guinza, ha pubblicato il bando, l'annuncio sui social del deputato Carloni per i lavori da 130 milioni. Differenziata, Fano in ritardo, anche Pesaro si è organizzata. Lupus in fabula lancia la provocazione. Seri si candidi per la maxidiscarica. Una provocazione bella e buona, quella di candidare Fano per la nuova discarica provinciale per rifiuti urbani e industriali. Ad autografarla l'upus in fabula che interviene così a gamba tesa nell'infocato dibattito su discariche e gestione dei rifiuti, acceso dalle vicende riceci, prendendo slancio anche dalla melina addebitata all'amministrazione comunale sul fronte della raccolta differenziata. Cambiando metodologia di raccolta, si potrebbe avere immediatamente una crescita della differenziata del 15%, una consistente riduzione dei rifiuti prodotti e una migliore selezione dei materiali. Ritrovo di ex liceali, 30 anni dopo la maturità, erano circa 70 i diplomati del Torelli del 1993. Quanti ricordi ed emozioni e qua appunto c'è l'articolo riguardo questa festa. Ed ancora festa del mare, l'omaggio ai migranti annegati, la testimonianza, sindaco e vescono, accolgono il messaggio di Mosin. Ci spostiamo ad Urbino, vediamo Urbino in prima pagina, ecco, aggrediti con una ferocia assurda, le telecamere hanno ripreso il blitz, rapina sciocca agli imprenditori. Rossi di Ferminiano, la sorella Sara, ricostruisce i minuti di terrore. Alle otto irrompono nella villa della famiglia Rossi, sparano un colpo in aria, puntano una pistola dalla testa di Alberto e lo legano mani e piedi. Alle otto e cinque perlustrano le stanze e prelevano denaro, monili, gioielli, abiti e borse griffate. Alle otto e dieci, quindi tutto in modo velocissimo, tornano a casa Vittorio con un dipendente, lo bastonano e immobilizzano entrambi. Alle otto, circa 20 e 30, fuggono a bordo della Mercedes, classe B della famiglia, Vittorio e il dipendente si liberano, sciolgono Alberto e danno l'allarme. E naturalmente, diffusa preoccupazione tra i cittadini dopo l'assalto, bisogna reagire. Non c'è sicurezza nel territorio. Passiamo alle pagine della Val Metauro. Schiaffo alla fontana restaurata, il comune presenta la denuncia. Intanto si moltiplicano le voci che chiedono per questa fontana di Fossombrone un sistema di videosorveglianza. Ed ancora ne abbiamo parlato ieri. Birra d'Augusto, le bollicine da imperitori, alla Rocca Malatestiana. Cinque giorni di degustazioni, spettacoli e grandi chef. Pagine di Valcesano. Fotovoltaico nei campi, un'esplosione di istanze. La reazione del sindaco di San Lorenzo per la deregulation del governo Draghi. San Lorenzo in campo, stanno pervenendo al comune diverse richieste per realizzare grandi impianti fotovoltaici a terra, principalmente in aree agricole. Il netto, netto il no dell'amministrazione, che lamenta scarsi strumenti per frenare il processo. Ed andiamo ancora a vedere cosa è successo a Senigallia. Prima pagina, ponte sul Misa. Lavori in partenza, il coppetto sarà pronto nel 2024. Danneggiato sulla provinciale dalla bomba d'acqua del settembre 2022, verrà ricostruito a Campata Unica. Il ponte sul fiume Misa del Coppetto verrà ricostruito a Campata Unica. Il progetto sarà presentato domani nella sede della provincia di Ancona, che ne ha curato la redazione e provvederà quindi alla sua ricostruzione. Passiamo invece a vedere la rassegna stampa del resto del Carlino. Il resto del Carlino, prima pagina. Anziani, la nuova trappola, il truffatore li sporca, poi li deruba con la scusa di aiutare a pulirsi. Riprende la notizia che abbiamo appena visto sul Corriere Adriatico. Titolo di prima pagina, guasto alla rete. La stazione di Pesaro isolata. Da giorni in linea telefonica interrotta vanno solo le biglietterie automatiche. Forti, disagio per viaggiatori ed esercenti. Ed ancora la notte delle candele, magliette gratis. Grande successo a Gilbis per chi non ne ha avute ieri. E ancora una notizia a Sufano. Basilica Vitruvio. È scavo continuo e spuntano due scheletri. Fondo pagina, parliamo di sport. Bartolucci ai mondiali, il sogno di una pesarese. Ed ancora il caso di cinque adolescenti pesaresi. Cecchetto e la baby band hanno la musica dentro. Cagli e l'autovelox macina multe, automobilisti inferociti. Una trappola. Vi ricordate anche di questo argomento? Ne abbiamo molto parlato. L'incubo dei tanti che fanno la strada per Roma, messo in semicurva nel progetto, era previsto in rettilineo. Fatto sta che il Comune ha risanato il suo bilancio. E con questo autovelox il Comune chiude il 2022 con un utile di quasi 2 milioni di euro. Ed ecco quello che è successo ieri a Pesaro. Linea telefonica interrotta, stazione dei treni isolati. Disagi per tutti gli utenti. Non funziona neanche la biglietteria. Operatore di Trenitalia, le macchinette. Non si aiuta i viaggiatori. Problemi anche per i tassisti. L'edicola, bar e tabacchi sono stati moltissimi disagi ieri all'interno della stazione dei treni di Pesaro e per tutti gli esercizi circostanti alla zona. Sono senza rete internet e servizi di telefonia fissa dalle 10 di martedì mattina. Fuori uso quindi la biglietteria della stazione. Non solo due macchinette elettronico funzionanti e due addetti presenti per l'assistenza ai clienti. venuti in soccorso dopo le file e i rallentamenti che si sono registrati in giornata. Naturalmente la protesta di Biancani, scandaloso. Un tale disservizio le compagnie telefoniche dovrebbero risolverlo. Fano prosegue la caccia alla Basilica di Vitruvio. Intanto tra gli scali spuntano due scheletri, si tratta di due individui vissuti in epoca medievale come mostra una moneta trovata nei pressi. Emersi altri preziosi marmi e anche un cucchiaio. Si cercano conferme alla Basilica di Fano nel sito archeologico di Via Vitruvio che continua a riservare sorprese. Sono infatti emersi ulteriori preziosi marmi verde e rosato nello stesso spazio in cui erano stati individuati durante la prima campagna di scavi a marzo di quest'anno quando si gridò alla scoperta della Basilica di Vitruvio di cui parla l'architetto romano nel De Architettura. Gli archeologici hanno anche portato alla luce una tomba di epoca medievale con due scheletri, mentre tra i piccoli ritrovamenti c'è un cucchiaio si presume di epoca romana, probabilmente IV secolo. Città non capoluogo, altro schiaffo. Seri denuncia, costretti a dividerci fondi, iti con pesaro, un'ingiustizia. Ritroviamo lo stesso articolo che abbiamo appena visto sul Corriere Adriatico. e passiamo, restiamo a Fano, scusate, spacciava davanti alla Memo arrestato, spacciava Ascis davanti alla Memo la Mediateca Montanari in pieno centro storico preso con le mani nel sacco mentre stava passando la dose al cliente i militari gli hanno fatto scattare le manette ai polsi. Finito davanti al giudice Andrea Pier Santenni, il 42enne ha ammesso la sua responsabilità e ha dato la sua giustificazione sono invalido al 75%, cieco da un occhio a causa di quell'aggressione al pub e ho una gamba devastata dalle ulcere. Ho provato a cercare lavoro ma non trovo niente viste le mie condizioni. Vivo con una pensione di invadilidità di 300 euro al mese. ho spacciato per necessità, così si è giustificato. Ed ancora Valcesano, fanghi al porto, l'annuncio, nuovo progetto in arrivo. È corsa coltron tempo al cantiere navale Wider per inaugurare il nuovo polo produttivo nell'area portuale di Fano ma è corsa coltron tempo anche per la rimozione dei fanghi che ormai da oltre dieci anni stazionano su delle banchine del porto. La promessa di un celere trasferimento definitivo di questo materiale alla cassa di Colmata di Ancone è rimasta sulla carta. La gara pubblica di appalto di quest'ultimo ente è rimasta incastrata in un contenzioso instauratesi al tar della Calabria che si trascinò ormai da anni. Potrebbe però esserci finalmente uno spiraglio. Come spiega il vice sindaco di Fano, Cristian Fanesi, la buona notizia è che l'autorità di porto anche dietro nostra sollecitazione sta presentando un nuovo progetto per la sistemazione dei fanghi per cui speriamo che la situazione caffiana venutasi a creare con il ricorso al tar della Calabria scompaia finalmente. Passiamo ad Urbino. Turismo agosto nero. Richieste di mezzate, crolli italiani e gli strani rombastano. Abbiamo appena invece sentito il nostro Edoardo Rubini che ha detto invece che nella zona sua a Porto Novo il turismo va a gonfie vele. Qua invece ad Urbino crollo dopo due anni di pieno effetto per Covid. La stagione parte col freno tirato e gli albergatori non nascondono la loro preoccupazione. Trend positivo fino a metà maggio, poi il decremento a giugno, luglio di segno più, ma soltanto grazie a teatro e musica. quindi a tutte le manifestazioni che Urbino presenta quotidianamente. e siamo arrivati alla famosa notte di San Lorenzo. Occhio al cielo per San Lorenzo. Stanotte è la caccia alle stelle cadenti. Io vi consiglio di prendere proprio il resto del Carlino perché alla pagina 19 c'è proprio tutto un percorso per chi volesse festeggiare la notte di San Lorenzo. Fuochi d'artificio, poi ci sono le perseidi, ispirano camminate magiche come quelle guidate tra boschi, calanchi e verde colline per chi vuole passeggiare. Poi ci sono le varie passeggiate, arriviamo alla notte stellata di Bertinori, mostra il suo volto più romantico con Bertin Love, ovvero programma musicale dalle ore 21 e 30 in Piazza della Libertà con il concerto di Giulio Cantore Band. Ed ancora tantissime cose che succedono anche al mare, sul nostro litorale. Per cui stasera è assolutamente una sera da festeggiare. Naturalmente quando si vedono le stelle cadenti bisogna esprimere un desiderio. E allora io vi lascio naturalmente a questa sera le vostre stelle cadenti, ma vi ricordo comunque che l'informazione di Fano TV ritorna alle 20 e 30 con il nostro telegiornale. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.